Un territorio che ha urgente bisogno di risposte, per questo non va lasciato solo e laddove la criminalità alza il tiro della sua feratezza, lo Stato e le forze di polizia tutte alzano altresì l'asticella dell'impegno sul campo per sconfiggere la piaga di ogni tempo, quella faida garganica che da troppo tempo insanguina il territorio. A Vieste ieri si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, a margine del quale è stato sottoscritto il protocollo d'intesa, Prefittura Comune di Vieste, primo comune della provincia di Foggia, per la realizzazione di impianti di videosorveglianza con finanziamenti ministeriali. Uno strumento in più a tutela del cittadino Nessori, quanti, e ne sono tanti, hanno preso e prendono le distanze dal malaffare e dalla malavita organizzata. È solo l'ultima delle risposte che stiamo dando in questi ultimi mesi. A partire dal preciso, dal gennaio del 2015, ci sono stati questi omicidi che evidenziano certamente l'esistenza di organizzazioni criminali attive che dispongono di armi e non esitano purtroppo ad usarle. Però a fronte di questo vorrei anche ricordare che Vieste è anche una città che ha saputo reagire, ha saputo reagire innanzitutto nelle sue componenti economiche. Voglio ricordare le operazioni che sono state fatte in passato e che si sono basate proprio sulle reazioni di questa città. In secondo luogo non vorrei che fosse dimenticato l'impegno delle forze di polizia negli ultimi mesi. Certamente la videosorveglianza è un aspetto importantissimo per i fini della prevenzione e anche della repressione dei reati. Però è altrettanto vero che negli ultimi mesi noi abbiamo concentrato risorse in termini di uomini e mezzi veramente molto importanti. All'incontro presenti oltre al prefetto Massimo Mariani, anche il sindaco Giuseppe Nobiletti e rappresentanti delle forze di polizia. Intanto i controlli sul territorio continuano a dare i loro frutti, consegnando la giustizia, elementi importanti dei pericolosi clan che si contendono i traffici illeciti sul territorio. I carabinieri hanno fatto un'importantissima operazione di controllo del territorio che è stata coronata fra l'altro dal sequestro di armi, di droga, munizionamento. Quindi è una risposta dello Stato alla quale posso anche aggiungere proprio roba dell'ultima ora, un ulteriore successo conseguito da un ulteriore arresto che è stato fatto dalla Polizia di Stato che completa, ma solo per il momento, la risposta delle istituzioni.